Ricordi quella signorina che abbiamo incontrato in ospedale? Ma l'anestesista? Ecco, non era l'anestesista, era una che ogni tanto parla si scacciava. Oddio, tra l'altro è orrenda, c'aveva un federe grosso. Ma non riscinta questo, l'importante è che mamma non lo scoprano. No, no, tranquillo, dai, mamma non lo scoprirà mai. Lei è un scorso, scorso! Tu porti male. Sono stata a fianco per farciarmi, ma me lo dovevi fare, mi fai schifo! Esagerazione, ecche, la scopatina! Ma lo sentite, vostro padre, lo sentite! Ma non ti chiamo, è una scappatella, papà ti ama, vero papà? Ma chi ti ama, signore, sono 40 anni che c'ho vostra madre fra le palle! E' stata zitta, no? Mi fai l'impresso, io ti odio! Ok, va bene. Mamma, papà è una persona molto malata. Ancora? Stai a vita, è brutto lo fa. Ma hai fatto una volta sola, in 40 anni su sede. Vero papà che l'hai fatto una volta sola? Veramente sono 300, si arrotonda per difesa. Ma va ben corte, sì. Vogliamo chiungere i miliotti, 500. Basta, basta, papà che fa male? Mamma, era solo setto, puh! Ovviamente esci da ingattiere che con l'omorevole non ce l'ho mai fatta per sporgere inizio, eh? Ma ti sei visto, sei con lo scartabaglio. Ti piacerebbe assaggiare sta bacchetto? Popo!